Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello, Anche tu diventerai come un vecchio ritornello, che nessuno canta più, come un vecchio ritornello. Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Sempre Benvenuti ad Antenna 2, ma soprattutto benvenuti in casa di Aurelio Nardelli. Aurelio Nardelli è questo signore che è qui a fianco a me. Buonasera, grazie per averci ricevuto. Buonasera, vi ringrazio io. Allora, Aurelio Nardelli fa parte, almeno il cognome, fa parte della storia di Avezzano, non solo di Avezzano. Suo padre è stato sindaco di Avezzano, dal... quando? 1920-1924. Il nome era? Ercole Nardelli. Lei invece, lei Aurelio, è nato quando? Il 13 giugno 1920. Quindi quando è nato lei, il suo padre ha fatto il sindaco? Eh sì, coincidono, come date. I primi ricordi che ha di suo padre quali sono? Beh, io devo precisare una cosa che non è normale, cioè io ero più legato a mio padre, da piccolo, che a mia madre, perché mi sembrava che mio padre riuscisse a capirmi meglio di mia madre. E quindi io mi sono trovato spesso con lui, anche quando avevo tre anni, quattro anni, e poi più avanti. Per cui, di mio paggio, ricordo bene molte cose. Il primo ricordo? Beh, il primo ricordo è addirittura quasi incredibile, perché in effetti avevo poco più di tre anni, e nel 1923, appunto mio padre era ancora sindaco, e ci fu un attacco da parte dei fascisti locali, che volevano che il sindaco si dimettesse, perché potesse cambiare l'amministrazione, visto che c'era stata la marcia su Roma, che l'ambiente politico era cambiato. Però questi si spinsero molto avanti, fecero cose quasi assurde, perché addirittura, sapendo che Ercole Nardelli non avrebbe mai ceduto e non si sarebbe dimesso, come loro volevano, allora tentarono di togliergli l'intero Consiglio Comunale. Lo convocarono tutti i consiglieri, nella sede del fascio, e dissero che... Dove stava la sede del fascio? Ebbè, erano una delle case del topo terremoto, provvisorie, non ricordo esattamente dove, ma credo verso il centro, vicino a Piazza Risorgimento, e dissero che se l'amministrazione non si fosse dimessa, il governo non avrebbe continuato a dare tutti gli aiuti necessari, economici, per ricostruire il più sollecitamente possibile avversato. Il suo padre Ercole che fece? Questa era una menzogna, inventata da loro, tant'è vero che questo signore, uno dei due, De Simone mi pare, fu poi cacciato dal partito, proprio perché mio padre si rivolse direttamente a Mussolini, dicendo quello che era accaduto, e quindi questi, sia De Simone che l'altro, adesso mi sfuggi il nome, furono messi fuori causa proprio. Ma suo padre Ercole si dimise? No, non si dimise, ci fu anche un successivo tentativo, e addirittura uno dei killer, chiamiamoli così come si definiscono oggi, addirittura sparò contro gli assessori che uscivano da una riunione, e fu ferito Alessio Sebastiani, una ferita superficiale, di sfioro al naso, eccetera, per cercare ancora di intemorirli. Dunque, suo padre Ercole Nardelli è stato sindaco dal 20 al 24, poi lasciò l'amministrazione comunale e diventò preside del liceo-ginnasio. No, 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 qui, un momento, mio padre fu incaricato immediatamente dopo il terremoto di dirigere il ginnasio, e quindi anche di occuparsi di tutte le necessità derivanti dal terremoto, cioè c'erano i professori, gli insegnanti, le ragazze che facevano gli studi nell'istituto normale, la scuola normale, che poi fu soppressa dalla riforma gentile, ma allora, dopo il terremoto, esisteva ancora, e mio padre ebbe l'incarico di dirigere il ginnasio e di occuparsi anche delle onoranze funebri, eccetera, di tutto questo personale della scuola. Subito dopo il terremoto ci fu chi voleva spostare a Tagliacozzo una serie di uffici che erano ad Avezzano, e suo padre si oppose fermamente a questo. Beh, non solo mio padre, ricordo bene questo che succedeva, anche se ero così piccolo, insomma, allo stato infantile, però io ricordo che mio padre si consultava spessissimo con Giacomo Palladini, che era un assertore sicuro della necessità di mantenere il tribunale ad Avezzano. Dunque, Giacomo Palladini era il padre di Remo e Pietrantonio. Eh sì, esattamente. E facevano parte di un comitato della rinascita. Sì, è evidente, loro hanno dovuto combattere continuamente contro questo pericolo. Perché volevano portare a Tagliacozzo l'apertura, il tribunale, l'ufficio delle imposte. Sì, fondamentali, volevano portare, come del resto sta succedendo oggi con l'Aquila, che si deve sempre difendere per far restare tutti gli uffici all'Aquila. Suo padre collaborò molto con Camillo Corradini. Ma erano, non solo collaborò, ma erano amici, si intendevano moltissimo. E quindi la perdita di Camillo Corradini nel 1928 fu una cosa molto brutta per mio padre. Perché Camillo Corradini era stato sottosegretario agli interni. Era stato sottosegretario agli interni e addirittura nel 1926, mi pare, non vorrei essere sicurissimo, però mi pare che si tendò di farlo entrare nel partito fascista perché potesse continuare la sua opera, che per Avezzano era una cosa... Però gli Aquilani, i dirigenti fascisti di Aguila, dissero che lo accettavano, ma come gregario. Quindi niente incarico di nessun tipo, e questo fu rifiutato da Corradini. Parliamo della visita di Mussolini ad Avezzano. Lei c'era? Sì, c'ero. Ma la racconti? Ecco, Mussolini andò nella fase finale delle manovre lì a Coso, militari, eccetera. E da lì si seppe che sarebbe venuto per una visita... Da lì a Carzoni? A Carzoni. Sarebbe venuto per una visita a Lampo, ad Avezzano. Allora, già si vedeva che c'erano dei preparativi. Per esempio, nella piazza Risorgimento, ai piedi delle scale della cattedrale, si era stato fatto una specie di grosso vomero, con la scale che saliva fino a questo vomere, che sarebbe stata la loggia dalla quale Mussolini avrebbe detto le sue parole. Quindi c'era molto attesa, molto... Del resto bisogna riconoscere che a quella data, 38, il fascismo aveva l'appoggio popolare più vasto e più certo. E quindi c'era questa atmosfera così. Se non che capitò che, sembra, questo non si è potuto sapere, che ci cercò di convincere Mussolini a non venire ad Avezzano. Da parte di Adelchi Serena, che era Ministro dei Lavori Pubblici, allora poi diventò segretario del partito, e Giomba sembrava che questa visita fosse annullata. Invece, terminate le manovre, Mussolini, sembra, ma pare che sia proprio così, all'improvviso, di fronte a tutti, disse andiamo ad Avezzano. Quando invece era tutto pronto per tornare a Roma. E capitò che arrivò prima Mussolini che i reparti speciali di Dicos. Quindi c'era grande atmosfera, grande attesa, e quindi anche grande entusiasmo. Allora, quando arrivò da Via Roma, prese il corso Corradini, che allora era via del Littorio, e c'era come motociclista che faceva da guida a questa colonna di macchine dove era Mussolini, Oretto Cavaglio, il quale io, proprio perché c'era troppa gente, c'era molto, riuscì a salire sulla edicola dei giornali che era lì sulla piazza. E da lì assistetta a questa scena. Oretto Cavaglio che faceva segni a De Ruggeris, che era un sotto ufficiale della milizia, di far aprire il varco alla gente che invece faceva arco per svoltare e andare verso la cazzociana. Siccome forse non capiva, ci vuole del buono, fino a che si aprì questo varco. passò la cosa del Tullo, andò alla stazione da via Garibaldi, poi tornò indietro, eccetera. Quando Mussolini comparve su questo vuomere, pronunziò quelle parole famose, molto brevi, ma anche di grande significato, perché disse che era venuto per vedere quello che era stato fatto e che quello che si doveva fare si poteva credere a lui che sarebbe stato fatto, eccetera. E vedi anche mia madre, che allora era addirittura una dirigente, o dirigente, faceva parte delle donne fasciste. Ecco, e vedi, stando da questo edicolo sopra il tetto, vedi che entrò nella cattedrale quando Mussolini finì di parlare, se non che anche il vescovo, Pio Marcello Bagnoli e Mussolini entrarono da soli nella cattedrale. Quindi mia madre assistente con mio fratello che è morto, Vincenzo, al colloquio fa il vescovo e Mussolini. Il vescovo indicava le strutture della chiesa, ancora grezze, eccetera, per convincerlo che ci voleva il terreno. E Mussolini annoiva, ma non disse niente. Poi io andai di corsa per capire da mia madre, eccetera. Quindi questa visita ebbe questa conclusione, cioè sembrava che Avezzano aveva buoni motivi per... Benissimo. Cambiamo completamente argomento, come si dice. Federico Vittore Nardelli era suo zio. Lei è stato un poeta, scrittore, drammaturgo. Lei che ricordo ha di suo zio Federico Vittore Nardelli? Beh, qui non so proprio come orientarmi, da dove iniziare, che cosa dire e cosa non dire. Perché Federico Nardelli era un uomo per molti aspetti eccezionale, ma in tutti i sensi. Non voglio esaltarlo nel senso tutto positivo. c'era, come in tutti gli uomini del resto, il positivo e il negativo. E alcuni aspetti del suo negativo erano molto pesanti, per la verità. Questo lo posso dire. Cioè? Cioè, lui era talmente convinto che erano notevoli delle sue capacità. Infatti era ingegnere, era poeta, era a suo modo un, come si dice, un cultore della vita proprio culturale, eccetera. Tanto è vero che ha scritto prima una biografia di D'Annunzio e poi quella di Pirandello. Allora, i difetti quali erano? I difetti era che aveva questa convinzione profonda della sua capacità di convincere chiunque. e anche il più estremo avverso a lui, lui, il resto non è solo lui che ha fatto questo, ma lui proprio questa caratteristica l'aveva in modo preciso. In che anno è morto? Nel 1973. Dove? A Roma. Lei ha fatto la guerra? Io, sì, ho fatto la guerra. Dove? In Slovenia. Slovenia, Croazia. Quanto tempo è stato lì? E dal marzo del 42 all'8 settembre del 43. Che ricordi ha? Anche qui non saprei come... C'erano altri avezzanesi? C'erano altri avezzanesi? Dove stava lei? No, avezzanesi no. C'era un sottotenente mio pargrado che era nel mio battaglione c'è la fotografia anche nel mio libro di questo Virgilio di cognome di Navelli. Fino a che anno è stato in Slovenia? Fino al 43 sono venuto a piedi da vicino Zagabria fino a Trieste salvato da una donna intelligentissima perché altrimenti sarei finito nelle mani dei Zvezchi da Villa Uvicina sopra Trieste. Lei era un tomber da fama? No, questo non... Io invece da giovane anzi non solo da giovane anche molto più avanti ero timido molto timido specialmente con le donne soltanto che... Riscuoteva successo. Lei è stato per un certo periodo comandante della polizia municipale di Sesto San Giovanni Sì dal 64 al 79 E lì viste un'esperienza importante? Beh, certo ma importante ma anche terrificante per certi aspetti per me perché ambiente totalmente nuovo funzione totalmente nuova e avevo molta preoccupazione perché del resto Sesto San Giovanni era una città di 100.000 abitanti dove c'erano le industrie più importanti direi d'Italia non era un qualsiasi comune eccetera quindi io ero molto dubbioso su me stesso infatti le mie vicende lì sono state anche drammatiche adesso non... me ne dica una ce n'è una a un certo momento all'inizio venne fuori che io avevo a disposizione non un vice comandante ma due di pari grado capitani e di pari anzianità nel grado cosa assurda perché non ha senza io ricordo che andai dal sindaco dal segretario generale Davi eccetera e dissi ma com'è questa cosa lui mi ha detto una spiegazione ma lasciamo perdere questo mi parli del suo incontro con Giorgio Napolitano beh non incontro il fatto è questo quando Giorgio Napolitano era membro della segreteria del partito e quindi si muoveva per tutta l'Italia quando era destinato a Milano per un accordo che io ho capito dopo che esisteva c'era il terrorismo in corso allora quindi lui veniva preso in carico dal comune di Sesto San Giovanni che doveva formare la scorta di sicurezza e io ho fatto svolto questa funzione tutte le volte che in quel periodo Giorgio Napolitano venne a Milano e posso dire non è che me ne voglio vantare perché non c'è da vantarsi di niente che in una serata in cui si stava terminando la cena in un ristorante tra Sesto e Milano io ero con quattro vigili in borghese armati eccetera e il quinto era vicino a lui dove stava seduto eccetera io parlando con gli altri mi ero distratto eccetera mi giro e vedo il posto vuoto quando al vigile il vigile mi fa un segno come dire non lo so io a farla breve dovetti capire dove era andata a finire lo raggiunsi in un giardino che era dietro il ristorante e dissi queste parole a Giorgio Napolitano allora citavamo del tuo dice se non vuoi la scorta sai a chi lo devi dire e non mi mettere in queste condizioni a me quindi io ho rimproverato quello che poi è diventato il capo dello Stato lei il 13 giugno prossimo compierà 90 anni eh speriamo quanti chilometri fai in bicicletta al giorno? beh questo è un altro argomento insomma un po' ridicolo per certi aspetti perché tutti me lo domandano perché mi vedono tutti girare eccetera io purtroppo mi sono definito perché è vero ciclo dipendente ormai il mio organismo è talmente è condizionato che mi faccio in genere 40-50 chilometri di al giorno non a settimana o a mese al giorno sono uscito anche stamattina con due gradi sotto zero fuori sta nevicando e ho fatto una ventina di chilometri una vita come quella di Aurelio Nardelli è chiaramente piena di mille episodi e mille ricordi non possiamo ripercorrerli tutti avete solo visto con quanta vivezza questi ricordi sono nella mente di Aurelio Nardelli che continua a pedalare grazie Aurelio Nardelli e grazie a voi che ci avete seguito aurelio Nardelli di 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 Aurelio Nardelli